Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Dunque, ciao. È inutile stare lì. Io non sono una brava ragazza, non lo sono mai stata, posso sembrarlo, ma io ho l'animo un po' oppresso da satana ogni tanto. E quindi pian piano rassegno i sassolini che mi sono rimasti nelle scarpe e li butto via. Perché in realtà vi ho raccontato soltanto una parte di tutta la verità. Nel video precedente, a 17 anni, ho avuto un esaurimento. Perché comunque non ho finito di sparlare di tutti. Ovviamente a scuola andavo in una classe dove non andavo d'accordo con le persone, che erano fortemente figli di papà, ricchi, ricazzi, stecazzi, che mi scrivevano delle cose assurde, che mi scrivevano delle cose orrende sul diario. Nel tipo, che non valevo queste cose qui, no? Poi ovviamente tutti i nodi sono venuti al pettino, ho affrontato la bulla un annetto dopo, quando mi ero proprio rotta le palle di sopportarla, anche perché questa non c'è. Io sono una persona normale, cioè mi sento normale, non cesso, ma neanche che figa. E questa era una tanto quanto meno, soltanto c'aveva il padre con qualche zero in più in banca, dopo il numero. Però a me non me ne fregava un cazzo, mi aveva stufato, quindi l'avevo presa da parte, l'avevo affrontata. La persona che ancora non me l'ha pagata abbastanza, ovviamente è il tipo che mi ha fatto queste cose, anche perché poi lui si faceva vedere in giro con qualunque tipo di ragazza, a me me lo venivano a dire per farmi star male, soprattutto in palestra, sti stronzi. Ma ovviamente era un continuo, perché o me lo facevano sapere loro o me lo faceva sapere mio fratello, comunque la tortura andava avanti, perché ai tempi, comunque ero molto giovane. Non dico gelosa, perché gelosia l'ho sempre avuta a poco, però insomma, mi devi proprio far sapere i cazzi di quello che mi interessa per farmi star male. Addirittura mi sono venuta a dire quanto ho preso la maturità, giusto solo per parlare di lui. In più c'era una sua amica che aveva stabilito, io queste persone le odio, aveva già stabilito quanto mi doveva durare la crisi, quindi dopo una settimana lei mi aveva chiesto se mi era già passata, quindi vediamo che profondità di pensiero. E questa poi alla fine ha finito col farla psicologa e diciamo complimentoni, infatti non mi fido molto della categoria dopo che ho saputo questo. Poi vabbè, è vero che una persona, cioè una persona non può sputtanare la categoria, però insomma, dopo questa qualche dubbietto ce l'ho, che ogni tanto prendano qualche abbaglio pure loro. Comunque, un'altra cosa che mi ha dato fastidio, ancora adesso mi dà fastidio, ho fatto una strage una volta, sono le persone che ti dicono, beh, devi trovarti una persona con cui parlare che ti passa tutto, come se questa persona fosse il padre eterno che se tu hai una depressione te la toglie. Ma che cazzo stiamo dicendo? Infatti un'altra persona si era comportata male con me e mi aveva scritto Ah, devi trovarti una persona con cui parlare. Ma vaffanculo! A parte il fatto che questa persona qui avrà anche i cazzi suoi, quindi non è che trovo le persone così con cui parlare, tutti disponibili, ma poi mi prendi anche per una bella merda di persona. Perché dovrei rompere il cazzo a uno con i miei problemi, che a me poi non piace parlare, se ho un problema e per me è ancora un problema, io per carattere mi chiudo, non mi piace parlare, se uno cerca di farmi parlare è una forzatura e io inizio ad odiarlo. Perché dovrei fare questo? Quando posso aspettare alcuni anni e distruggerti la reputazione su YouTube? Perché diavolo mi dovrei togliere questo grandissimo piacere? E poi mi sembra proprio un comportamento da quelle che io definisco le puttanelle che vivono per niente, che fanno una vita di merda, alla quale mi volevano condannare, perché a me mi volevano far fare tutto il Politecnico di Torino tra delusioni e amici che continuavano a puglianarmi alle spalle perché erano dei frustrati di merda che non sapevano risolvere i loro problemi. Poi dovevo farmi ancora un lavoro praticamente da sottomessa tra i bigottari, avevano già deciso tutta la vita per me, no? Non considerando che forse a me faceva schifo, no? Perché non me ne sono andata prima? Perché non ne avevo tutti questi mezzi, non sapevo come andare via, mi sono svegliata anche molto tardi e lì è stato il mio errore, lì ho sbagliato io. Però vedete, a differenza loro, quando io faccio un errore e me ne rendo conto, io lo ammetto, io ho sempre detestato chi cercava di non prendersi le proprie responsabilità. Minchia, sei l'unico al mondo che non sbagli, rilassati tesoro, sbagli quanto noi, no? E infatti, è anche quello il fatto, non mi prendo tanto la mia responsabilità, tanto c'è quell'altro con cui ti sfogherai, a cui ti sbatterai tutta la merda addosso. Io ho sempre parlato poco e quel poco che l'ho fatto, sui miei problemi, lo sapeva mia nonna. Certo che dopo gli 80 anni non era così e questa da andargli a rompere il cazzo sui miei problemi, perché mi rendevo conto che avevo una certa età e le facevo male, se le andavo a cagare la minchia con le mie delusioni sentimentali. Forse non sono così stronza come con tutti, prima di tutto. Secondo, poi ho capito una cosa, tanto prima o poi, queste persone mi vedranno su YouTube che li sto facendo a fettine lentamente. Poi ci ho voluto un po' anche a costruirmi un po' di voi che mi seguite, io mi raccomando sempre di diffondere il mio video, di condividerlo, in modo tale che quando queste persone vedranno cosa dico di loro in giro, si sentiranno proprio delle merda, perché la cosa peggiore è che non solo non si prendono le loro responsabilità, ma hanno una paura fottuta di quello che pensano gli altri di loro. Perché proprio non me ne frega un cazzo di quello che pensa la gente di me. Cioè, a me, tra l'altro, non vorrei che voi non abbiate capito quello che è successo qualche giorno fa. Qualche giorno fa mi sono un po' incacchiata. Al di là del fatto che comunque la scenata per me finisce nel momento in cui schiaccio il pulsante e il video finisce. Se i miei vicini escono ancora una volta sbattendo la porta li ammazzo, scusate. Ma è successo che a me non piace chi manipola e chi non si prende le proprie responsabilità, per cui è stato fatto questo e a me è andato un po' il sangue alla testa. Illumino un po' di più. E quindi è successo questo. Non è che mi sono arrabbiata per quello che potete pensare di me. Per me potete anche pensare che io, nel mio tempo libero, pratichi il sesso estremo o qualunque tipo di cosa. Non me ne frega assolutamente un cazzo di quello che pensa la gente di me. Se no mi sarei già sparata perché ho sentito delle cose assurde. L'unica cosa che forse, 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 non dico che mi dispiace, ma mi annoia perché mi è stato detto da quando ero alta così, da persone cattive e che sono una persona senza empatia, proprio fredda. Adesso scusate, accendo la luce. Ecco, ritorno. Che è proprio una cazzata perché avrei vissuto molto meglio di quanto avrei vissuto finora se fossi senza empatia. Poi una persona veramente senza empatia lascia la gente morire per la strada. Io almeno un'ambulanza la chiamo. Anche se mi state sul culo, chiamo l'ambulanza. Va bene, a quel punto è per evitare di essere arrestata per omissione di soccorso, chiaramente. Poi però mi informo se avete sofferto tanto o poco perché il sadismo fa parte di me, sapete? Non uccidereai mai un mio nemico. È molto più divertente sputtanarlo su YouTube. Soprattutto se hanno questa debolezza di farsi seghe mentali su quello che pensano gli altri di te. Tra l'altro, quello che pensano gli altri di te è un loro problema che ti fotte, amico mio. Vabbè, ma comunque, se hanno questa debolezza la pagheranno per tutta la vita, chiaramente. Che bigottari! Oh, la cosa divertente è che pensavano di aver deciso la vita che io avrei fatto. Ma, c'è questa cosa di merda che si chiama libero arbitrio e libertà di scelta, tale per cui la democrazia vi dà un pochino fastidio. Oh, ma che poveri stronzi! Comunque, proprio questa cosa di andare a stressare il prossimo tuo con i tuoi problemi perché tu hai avuto una delusione sentimentale e non la capirò mai. Ma perché devolo mi dovrei togliere certi piaceri che quando mi sarà passata l'incazzamento da lacrime, no? Che comunque mi dura un certo periodo e prima o poi ti passa. Poi dopo uno si calma e dice, oh, adesso lo faccio a fettine su YouTube. E poi soprattutto la cosa che mi fa più divertire è che quando mi mandavano il prete di merda a trattarmi male, no? Il prete di merda parlava a 30 persone se c'era tanta gente. Invece io qua a YouTube vado avanti a 100 persone al giorno, più o meno. Quindi forse è un po' più facile rispetto a una volta, però non avevano previsto l'arrivo di YouTube. E io invece quando ho capito che YouTube funzionava così ho detto, cazzo, non posso perdere quest'occasione. Sarà bellissimo. E poi, cioè, voglio dire, ho visto la diva del tubo, mi si è anche acceso un'altra lampadina. E ho detto, sì, che bello. E poi c'era gente che aveva deciso che anche su YouTube io dovevo essere censurata. Cioè non dovevo parlare dei cazzi miei, dovevo parlare soltanto di tecnica. Perché nella mia vita io devo studiare tecnica, devo studiare ingegneria, devo formare il giovane e non devo dire le parolacce. Poi probabilmente se mi viene un rutto, no? Devo morire perché non posso neanche farlo, neanche privatamente in bagno. Perché non posso avere un momento in cui, dico una parolaccia perché mi è caduto un peso di 5 kg su un piede, me l'ha staccato, non posso dire un porca puttana così, innocente. Ma a me verrebbe già un bestemmione proprio di quelli. Perché io bestemmio, tra l'altro, sappiatelo tranquillamente. Io bestemmio. Se io proprio ho un problema con la forza di gravità, se le cose mi cadono per terra e sono di fretta, il bestemmione ci scasca, proprio tranquillamente, serenamente il bestemmione arriva. Cioè, avevo notizie tutta la vita per me, non potevo neanche dire le parolacce perché non sta bene sulla bocca di una ragazza. Invece un uomo, cazzo, fa una figura proprio del gran signore, proprio Cambridge. Ma quante cazzate! Quante puttanate ho dovuto sentire! Oh mio Dio, mi dovrebbero pagare i danni! Cioè, ci sarebbe da ubriacarsi, tutte le stronzate sentite. E poi, ah sì, anche questa del prete. Erano soltanto, erano gli anni novanta. È vero che sono passati vent'anni. Però, cioè, non stiamo parlando comunque del medioevo, eh. Erano gli anni novanta. Secondo statistiche, io me lo ricorderò sempre quello che ha detto a scuola, perché tutte le stronzate che mi ha detto, io ho pensato, io queste devo ricordarmene, perché prima o poi magari capiterà che ci sarà il mio momento in cui mi posso sfogare. Lui diceva che, praticamente, no? Le donne chiedono il divorzio molto meno degli uomini. A parte il fatto che io non lo so, perché non sono sposata, quindi fatemi sapere se è vero o no. In Italia le donne chiedono il divorzio, chiedevano almeno negli anni novanta, il divorzio molto meno degli uomini. E quindi venivano lasciate molto di più, è una cosa normale. Poi facevo questo esempio di questa donna, che secondo me non esiste, che aveva tre figli e i figli erano perfettamente informati delle corna che il marito faceva a lei, no? Che invece di mollarlo e farsi la vita da sola, oppure trovarsene un altro, sopportava tranquillamente le corna, perché bisogna accettare nel matrimonio il martirio cristiano. Ma che cazzo ti vieni a martirizzare per uno stronzo? Almeno se vuoi martirizzarti, fallo per qualcosa di buono. Io lo ammetto, no? Se proprio devo cercare una cosa per cui martirizzarmi, piuttosto che farlo per una persona, l'ho fatto per la mia tesi di dottorato, piuttosto di farlo per il marito stronzo, che mi fa partorire tre figli e tra il dolore assurdo, perché non gli avranno neanche fatto una puntura a questa povera nonna, perché il dolore si deve sentire tutto, no? Perché siamo ancora nel medioevo. Poi per fortuna lei, secondo quella mentalità del cazzo, aveva tre figli maschi, quindi almeno poteva farli uscire, perché se erano femmine bisogna tenerle chiusi in casa, come se fossero delle prigioniere. Perché tanto se l'uomo mette incinta qualcuno, vabbè, sono cazzi della donna, tra l'altro, che resta incinta, così se almeno è una ragazzina, no? giovane, che ha sempre il ciclo, un po' di ciclo, però è incinta, non se ne accorge, non lo sa, partorisce poi in bagno e magari crepa, no? Però che cazzi su, ha una mentalità cattolica? Eh beh, non si sa chi è il padre, non c'era ancora tutto questo test di gravidanza, quindi chi se ne fotte può morire. Però, se tu ti sposi donna, devi rimanere sposata, accettare le corna, e lui cambia anche, magari fidanzata nel frattempo, perché si annoia, e quando trova la nuova ragazza, praticamente non ti caga, e magari ti dice pure che sei ingrassata, però tu devi sopportare questo per il martirio cristiano, che sarebbe? Cioè, che cosa c'è? Qual è lo scopo di sopportare tutto questo? Fatemelo sapere. Cioè, io tendenzialmente mando in culo per molto meno, eh. Però, vabbè, io so stronza. Io ho la fortuna di essere stronza, ricordatevi, io sono stronza, mando in culo per molto meno. Anche, adesso, però, tra l'altro, dopo tutte queste cose mi sono capitate, di sopportare cazzate, una volta magari un tradimento l'avrei anche sopportato e forse perdonato. Su due palle così? Non è neanche questione di perdonare, è che proprio, mi hai fatto cadere le palle, no? Con questi ragionamenti, sono arrivate dalla Renania, no? Sono andate anche contro la forza di gravità sulle Alpi e sono ritornate a casa le palle, no? Per cui, la storia finisce con io che smetto di parlarti, neanche ti dico ti mollo, cioè, io proprio me ne vado, non mi vedrai mai più. Altro che martirio cristiano. Ma per che cosa deve martirizzarti? Per cosa? E queste cose ce le diceva negli anni 90, cioè... Io spero che sia cambiato un pochino la mentalità anche a Biella, ma divorziate, ma mandate affare in culo. Tra l'altro non c'è più neanche l'abbandono del tetto coniugale, fai la valice e vai! Mio Dio! Quante cazzate ho dovuto sopportare! Noi non sopporterei neanche più cinque minuti di queste cazzate! Cioè, boh! Proprio un odio verso le donne, invece gli uomini li adoro! Io gli uomini li adoro, ma pure anche quando mi hanno detto che io sono una pervertita, che vado con più uomini contemporaneamente a letto, le faccio le ammucchiate, no? Alla fin fine, no? Io mi sono incazzata perché questo ho tirato alla pietra e nascosto la mano, no? Cioè, anche forse sono cazzi miei, però volevo avvisare una cosa, siccome sono veramente anti-bigottara, ragazzi, oh, che devo farci! Il mio essere pervertita risiede su altre cose, non con più uomini contemporaneamente, ma secondo me, ragazzi, lo dicono proprio che è del mio segno zodiacale, quindi la colpa è del mio segno zodiacale, secondo me c'è sta cosa del sesso cibo, a me è sempre dato la testa, cioè, sta cosa del sesso cibo mi ha sempre dato la testa, c'è niente da fare, io per la panna montata divento matta, quindi ragazzi, ora vado a montare la panna, ciao ciao!